dell'attività culturale che abbiamo sempre fatto, non per niente sul nostro ruolo si legge l'associazione culturale, proprio per questo motivo, creare un evento che non fosse solo di tipo culturale, lo è certamente, ma qualche cosa che rimanesse nel panorama artistico della città, ecco perché la scelta del teatro di città pasta è la scelta di un evento che possa avere l'interesse, non dico di nicchia, perché di persone che amano il programma italiano e anche europeo ce ne sono tante, ma evidentemente costruire poi un programma così ben equilibrato e ordinato abbiamo avuto bisogno dell'assistenza e della dedizione del maestro Traimonti che per il terzo anno dirigerà l'orchestra e il cora Medeos e questi sono i due elementi diciamo che spiegano la natura e la causa dell'evento, ma la cosa più importante, questo è il terzo elemento su cui noi abbiamo fondato in maniera direi personalizzata, perché nel panorama delle attività benediche sociali della nostra città, credo che il nostro evento sia veramente particolare.